Non toccate i gatti di quartiere, alla loro cura ci penso io. Lui si chiama Antonio, 57 anni, di professione fa il meccanico e nella sua officina in Viale Gabriele D'Annunzio Pescara ha realizzato una vera e propria zona benessere per i gatti, soprattutto per quelli più sfortunati, abbandonati o maltrattati. Un tre anni e mezzo fa abbiamo trovato una gattina abbandonata in un locale in via di Bullo, l'abbiamo salvata tramite la polizia di Stato, abbiamo aperto quel locale abbandonato e siamo riusciti a recuperare questa gattina. Come si chiama? Tommy, adesso ha quattro anni, l'abbiamo salvata, poi è cominciata ad uscire fuori, è tornata col pangino pieno e ci ha portato sei bimbini. E da Tommy a Gerry, Chicco, Ice, Coco, Spirbine, Principeste, il passo è stato breve e la famiglia Feline è cresciuta, tanto che Antonio ha dovuto chiedere ai condomini un aiuto. Questa era un'area abbandonata e di proprietà della signora Camblone, che abita qui sopra al terzo piano. La signora ci ha dato la disponibilità, ha detto guarda lo potete utilizzare come volete, a me non mi dovete dare nessun affitto, niente. I genetanta e giochi che cambiano con le stagioni o quando i gatti manifestano disinteresse. Non manca l'aria a bagno, la stufa per l'inverno e il ventilatore per l'estate. Le aree vanno curate anche con fiori e piante perché a loro piace camminare nel verde, rimarca Antonio, che si attrezza anche per chi, come dondolino, ha un problema neurologico e dunque ha bisogno di uno scivolo particolare. Ovviamente ci sono le videocamere di sorveglianza perché non si sa mai chi passa. I gatti di Antonio non finiscono certo qua. In giro per Pescara ci sono delle casette realizzate da lui in varie vie, soprattutto nella zona di Porta Nuova. 15 per l'esattezza che servono a circa un centinaio di gatti. Si parte ora di cena e si rientra alle 11 e mezza perché non è importante solo dare da mangiare, ma loro si aspettano una carezza. E sulle risorse costa tutto, poco, dalle crocchette, ai piattini rossi, all'acqua minerale, ai cartelli. Ma alla fine del mese lo stipendio non basta mai e ce lo dice la sorella Luisa e Cristian, che fanno parte della squadra. E per questo servizio Antonio ringrazia i gatti in primis, ma anche il vicino di casa, Ingegnè, lo chiama così, che ha chiamato Reteotto. E il professore di fisica Gianni del Tito Cerbo, un po' commosso, accompagna la truppe nel giro serale. Li accudisce, non significa che gli dà soltanto da mangiare, da bere, li pulisce la terra, eccetera, ma li porta anche dal veterinario quando è necessario, li fa sterilizzare tutti quanti. Quindi i costi sono impressionanti. Penso che abbia bisogno di un po' di aiuto perché fa comunque un lavoro umile. Si chiama amore? Penso proprio di sì. Alla fine del tour i saluti non possono che essere di Biancone e Geki, i gattoni di Porta Nuova.